Che bello la vita, le circostanze della nostra vita, le circostanze della nostra conoscenza, le circostanze dei nostri incontri, il tutto avviene perché è scritto nella nostra vita. Mi ero chiuso in me stesso, ma c'è chi sa amare ed aiutarti. Una voce mi gridò, esci dal tuo guscio, c'è chi ti ama, come sai amare tu? Sono andato da questa voce che mi rimproverava per il mio bene. Il cuore mi batteva forte, come un tamburo, e ero agitato. Per me era la prima volta, e poi dopo tanti anni di solitudine. Che bella domenica, che bella la vita, mi hanno fatto rinascere. Sono stato circondato da una numerosa famiglia, tutti riuniti e pieno di pace. Una famiglia educata, gentile e piena di amore per il prossimo. Mi avevano commosso. Il loro amore mi hanno aperto il mio duro cuore. E la mia voce trema nel ringraziare la loro accoglienza. Nel farmi capire che fuori dal mio cuore ci sono tanti cuori, molto più puri del mio stupido cuore. Grazie, grazie, grazie. Vi amo. Odito.